Per rispetto e per correttezza parlo solo e soltanto di Sergio e dei tanti Sergio che ci sono in Italia non hanno la sua forza, la sua grinta, la sua voglia di far sapere l'ingiustizia che sta vivendo e sono in depressione, si sono suicidati, si sono dati all'alcol, hanno perso i figli, hanno perso la moglie, hanno perso la casa, hanno perso l'azienda. Questo per dire che qualunque governo nasca c'è bisogno di gente come Sergio per cambiare le leggi, per fare in modo che lo Stato paghi i suoi fornitori perché l'Italia è l'unico paese al mondo dove gli imprenditori falliscono perché lo Stato e gli enti pubblici non li pagano e poi va rivisto completamente il sistema delle aste, fa diventare giudiziarie, perché un bene che vale 2 milioni di euro non può essere svenduto a 200 o 300 mila euro. Questo significa drogare il mercato immobiliare e aggiungo qualcosa io che non può dire lui, probabilmente fare un favore a qualcuno, alimentare un mercato di amici, degli amici che su queste aste campano e guadagnano e quindi domani mattina se ci fosse un governo rivedere il sistema delle aste fallimentari, proibire il sequestro della prima casa, pagare tutti i debiti i progressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei privati e dare anche un occhio a come le banche trattano i loro clienti o i loro servi. L'unico obiettivo di oggi è portare tutti voi, grazie a queste telecamere questi microfoni e questi taccuini, a far conoscere la vicenda di Sergio, visto che oggi pomeriggio alle 2 io spero che non accada con la forza pubblica, spero che Polizia e Carabinieri vengano usati altrimenti non per portare via a peso le centinaia di persone che danno solidarietà a Sergio ma soprattutto per dire che in Italia di casi come questi ci sono migliaia e di qualunque colore sia il governo che nascerà nei prossimi giorni deve avere in questo una priorità, tutelare le imprese, gli artigiani le famiglie e le prime case e rivedere il sistema delle aste e delle banche. Ovviamente non rispondo sui premier, sui vice premier, sui ministri, sui viceministri, di questo sarete aggiornati nelle prossime ore però fino alle 14 di oggi l'impegno mio e di tanti, di tante parti politiche diverse è salvare questa casa e salvare questa famiglia perché rappresenta migliaia di famiglie e migliaia di case io spero che ci sia un governo, ripeto qualunque governo ci sia, se fossi io uno dei protagonisti del governo insieme ad altri chiederò a Sergio di dare una mano, visto che lui l'ha pagata sulla pelle e una legge Bramini, mi permetto di metterla così, che salvi tanti sergi italiani è fondamentale però ripeto, l'importante è che entro le 14 di oggi tutti usino il buonsenso non può essere usata la forza pubblica nelle prossime due ore per interventi come questi ecco, chiunque sia io chiederò al prossimo ministro dell'interno di usare la forza pubblica non per sgomberare il primo ministro Sergio mi dice che lui spera che un governo nasca, io gli ho detto che faremo di tutto perché un governo nasca avrà un ruolo? in ogni caso un governo nascerà avrà un ruolo nel governo come ha detto Di Maio ieri sera? non so, io fino alle 14 lavoro e prego perché questa casa rimanga di Sergio dalle 14.30 in poi io sono qua, vediamo, no perché poi se viene Di Maio mi fate le domande sul governo e quindi ci diamo i cambi ci diamo facciamo nascere il governo nel salotto di Sergio potrebbe essere lunedì lei è l'interno di Maio Premier? potrebbe essere non parlo di queste cose ma da lunedì il governo? lunedì sicuramente andremo al presidente Mattarella per rispetto e perché comunque si chiuda abbiamo fatto tutto il possibile mandati con un nome andremo al presidente Mattarella lunedì Bramini Premier Bramini? Bramini Premier non glielo auguro non glielo auguro è definitivo beh chiedere è lecito rispondere più tardi sarà cortesia il contratto è chiuso l'avete messo scala è che rimanga sì grazie mille